Travolgiamoli! Colpito! Veicolo nemico distrutto! Taddeus! Corazzato nemico distrutto! 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 Il serbatoio è stato colpito! Li abbiamo danneggiati! Corattato nemico distrutto! Corattato nemico danneggiato! Corattato nemico distrutto! Il silenzio di Romano, è troppo diverso tänne scendere! Il flottone è stato creato. Un giocatore si è unito al flottone. Bel colpo! L'abbiamo preso! Li abbiamo danneggiati! Veicolo nemico distrutto! Il flottone è stato creato! Il flottone è stato creato!